Rita, vuoi insegnare a me il cambio di stagione? Scusate, scusate, ma mi tocca a dire, ma che cazzo c'è da Rita? Siamo alle Margherite del Pulito, dico le Margherite perché una è qui alla Galleria Sette Ponti, una Salleo, Torzola. C'è il cambio di stagione, Andrea, che c'è di particolare? Ci sono delle cose da fare, stoppe. Piumone, giaccavento, perché se si lasciano lì fino al prossimo stagione... Piumone, piumini, dentro c'è che c'è che animali... come si chiama? L'acari. L'acari, in quelli delle persone normali, nelle tue c'è... La carogna. La carogna. E poi un'altra cosa importante di questo periodo che va pensato è quello anche di... cosa ci avremo qui dentro? Le scarpe? Le scarpe, dobbiamo pulire le scarpe. Perché? Perché la scarpa invernale mantiene la frore dopo. No, soprattutto... Ma sono le mie? Ah, questo vero, l'hai anche igienizzata? Molto igienizzata. Ora, ora, molto igienizzata, mi fai fare le figure che ho le carucole tra i ditti dei piedi. Chi? Io? No, ero un pulitissimo. Ero un pulitissimo. Eh? Stuscia. No, questa è una scarpa tozzo, pensate che a qualche anno... E chi l'avevo... era abbastanza sporca. Era abbastanza sporca, soprattutto questa destra dove te guidando sempre... Ma era mal destra. Questo è un uomo di destra e quindi la destra è sempre più sporca. La sinistra è pulita, si sa. È la destra che è sud, diciamo. Grazie Andrea. Siamo in campagna elettorale. Te volevo far notare questo. Ma io parlo solo di lavanderia, margarone.